Il molfettese Domenico Gadaleta, ricercatore presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, è stato insignito lo scorso 11 novembre del Lush Prize 2020 per la categoria Giovani Ricercatori. Il suo progetto ricerca metodi alternativi attraverso l'intelligenza artificiale e simulazioni computerizzate rispetto alle sperimentazioni sugli animali per verificare la tossicità di alcune sostanze chimiche che potrebbero causare danni neurologici. Il servizio a cura di luce e vita di Susanna De Cambia. Siamo a Molfetta, la città d'origine del dottor Domenico Gadaleta, ricercatore presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, insignito lo scorso 11 novembre del Lush Prize 2020 per la categoria Giovani Ricercatori. In cosa consiste il progetto di ricerca presentato? Il mio progetto consiste nel mettere a punto metodi alternativi alla sperimentazione animale per valutare il rischio legato alle sostanze chimiche per la salute umana attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'idea nasce dal fatto che ogni giorno siamo letteralmente bombardati da un grandissimo numero di sostanze chimiche ed è letteralmente impossibile valutarne il rischio legato solo con l'ausilio di test animali. In questo i metodi computazionali ci vengono in aiuto perché ci permettono di simulare con l'ausilio di un computer il comportamento di queste sostanze chimiche in brevissimo tempo e con un ammontare minimo di risorse e quindi ci permettono di riconoscere le sostanze che possono essere pericolose prima ancora che se siano prodotte e messe in circolazione. Cosa rappresenta questo riconoscimento internazionale a livello personale e per la ricerca? Per me è sia un punto d'arrivo che un nuovo punto di partenza perché è un riconoscimento del lavoro che ho fatto finora e anche un nuovo stimolo per continuare a insistere in questa direzione. Per la scienza mi riempie di fiducia perché mi sembra che stia crescendo una consapevolezza e una sensibilità verso la necessità di spostare la ricerca scientifica verso una direzione più sostenibile e penso che questo sia molto importante. Domenico Gadaleta, say hello and congratulations to you! Hi Neil, it's a pleasure to be here. Ciao!